Buongiorno a tutti, io sono Jessica e questo è il mio canale Lei è mia torre Lei è mia torre Lei è mia torre Lei è mia torre Ok, io tagliamo un po' Scusate con la distanza ma non sapevamo dove metterli e quindi siete sopra una scala insomma quando dobbiamo mangiare avviciniamo la cosa e si abbiamo le magliette uguali Già che eravamo sceme e non ci ripari ancora 30 fai 31, capi? Vabbè, qui ci sono i bigliettini e gli ingredienti di oggi saranno Allora Bambu, schutz bastoncini di bambu eh, capi? Che lavora Cioccolata alla panna Cioccolata alla nocciola no, cioccolata alla nocciola una crema credo greca al curry e yogurt tonno marshmallow salsa barbecue salsa barbecue patatine alla mucca e aglio olive olive e l'uomo e qui abbiamo i nostri amati bigliettini ci spingiamo il telefono perché non spingiamo il resto non ci spingiamo non ci spingiamo non ci spingiamo eeeh cominciamo a vedere che si è entrato aspettate, aspettate ma si si allora vediamo ooooooooooooooo una lentetta ooooooo oh nooo oh nooo eeeh eeeh il tonno eeeh eeeh il tonno eeeh un po' è piaciuto lo scutto su, non dimentico ecco il tonno il ciccio sul cartello il tonno cosa pensi che aveva di pezzo del marshmallow il marshmallow salsa barbecue yogurt non è la soggiativa non so se ti vede oh metti la pizza allora olive per ora direi che mi sta andando più che bene ma in stelite c'è il noccio è un bello sputti 5 o 4 o 4 o 4 o 4 ho capito ma tanto quando ne mangerò dovremmo per forza mangiarle separate molto bene prestiamo il bigliettino un attimo non ti fa smenno non ti fa smenno ho deciso di tocare di ma non ti fa smenno non ti fa smenno non ti fa smenno che schifo che non ti fa smenno ma se ho postato delle fome vado patatine e mu... perché mucca e aglio? non ti fa smenno, non la si troppo ma mucca e patate vip e gratis l'ho letto ieri sì 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 l'ho letto ieri guarda e che mangia soffa? non si vede che abbandi il poteto al gusto di carne coglione le pizza sono diverse perché sono cilierca non è che sono cilierca ma tocca a te ma ci fanno se squaggio? tocca a te si squaggio quando la metti la foto no l'ho messo in fuori cioccolata di nocciole cioccolata di nocciole give me sicuramente io non ho più una manca tutto quello che ne vi renderà qua solo cosa che non mi torna sai? perché lì sono quattro bigliettini e tre ingredienti no c'è un po' qua vabbè il cielo è tu il cielo è tu perché vuoi saltarlo? ma veramente schifo non lo so ma non lo so non l'hai mai mangiato? non lo so dai dai vomito baaah vomito non posso metterlo sulla piedi sta cosa? che schifo che schifo uovo bella merda bella merda non tocchiamo l'uovo eh siamo addirizzate comunque dai manca franzà panna e più cioccolata che ho cioccolata con le cose in bocca io punto sulla cioccolata 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 con panna mmm che schifo no perchè da qua si dice mangi di babbucco molto bene quindi toscatè e salsa barbecue controlliamo la sarà bene perché toscatè l'ignoranza bella 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 siamo pronte per mettere le nostre pizza in forno e il bambù te lo mangi tu e il bambù te lo mangi tu 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 siamo pronti si comunque la mia pizza è più artistica quella è più bella che ha fatto la sua famiglia di cacca bambù te lo mangi andiamo a metterle in forno ecco pronto le nostre pizza bella 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 poi raccogliamo tutto come sta e la pizza di stavo già sotto tenendo ma ci stanno diventando i barroni non si sa come comunque facciamoci sotto e ricordatevi che chi perde le due cioè le mangi al piano Voi sceglierete la punizione Dicevo Chi vi perderà delle due Voi sceglierete la punizione Vole scriverete qua sotto nei commenti Quindi Cominciamo Prende Il cioccolato viene tutto più buono Non è male Il cioccolato con il tuo colore Non si sente perché è natale È una pizza pizza Stai mangiando un petto pizza Ah una petto E non fa la pizza più piccola Io ho pensato che è il tuo cuore più mangiabile A chi mangia più più Il papù è mangiabile Che ve lo vogliate Che cosa ne va se non è da bovinare o tutto Ma che cazzo c'è E non mangiarla Non voglio No No Il po' di mangiare Il po' di mangiare Il po' di mangiare Oh Ho vinto, ti ho fatto un cazzo Ma si è stonto il telefono Non siamo blinque Non è stonto Vabbè Io ho perso È buona Ma com'è buona Ci sta provocare Allora io ho perso Io ho vinto Quindi la punizione toccherà a me Ditemi voi che punizione devo fare nei commenti Questa era la pizza sto per cominciare Raga fa di uno schifo Ma è mica bella E se la mangia con gusto Il punto è quello Comunque Se volete seguirmi lo sapete Tutto nell'info box è tutto a fine video E spero che il video vi sia piaciuto Mi ha fatto cagare Ma Mi ha fatto cagare questa pizza E quindi niente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutte Siete cos'è se la mangia pizza Oh, mi sono Ciao 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 Ciao